Non si può continuare così Dopo due millenni la maschera deve finalmente cadere È il momento di uscire dall'inganno dell'antisemitismo distinguendo i sionisti ashkenaziti padroni del mondo occidentale dai veri ebrei A questo argomento che mi ha guadagnato una denuncia per istigazione all'odio razziale caduta per ovvie ragioni nel nulla Ho dedicato numerosi video che trovate su questo canale e due saggi Ade, la sinagoga di Satana, è benvenuti all'inferno confermati da oltre mille documenti scientifici e storici Mai come adesso i media Tutti, salvo rare eccezioni in mano agli usurai ashkenaziti sono stati così feroci accaniti nel rispolverare questo alibi pretestuoso L'antisemitismo da sempre è alimentato dalle infamie di questa particolare etnia che si finge semita ma non lo è come ci ricorda l'apostolo Giovanni nelle sue lettere ai vescovi dell'Asia minore duemila anni fa Oggi tutte le mezze calzette del sistema coloniale italiano berciano a più non posso genuflessi davanti alla israele sionista a dispetto della realtà negando quello che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti il genocidio, l'eliminazione scientificamente programmata del popolo palestinese I veri ebrei e i palestinesi, veri semiti, sono entrambi le vittime di una strage che finirà solo con la scomparsa del popolo di Palestina per mano di falsi ebrei che semiti non lo sono affatto non lo sono per genetica, non lo sono per la loro eccezionale intelligenza e longevità non lo sono per le malattie recessive che derivano da queste straordinarie caratteristiche centinaia di studi scientifici e storici oramai lo dimostrano finché non si prenderà coscienza di questo inganno del quale molti veri ebrei, rabbini, scrittori, giornalisti intellettuali sono già consapevoli l'alibi dell'olocausto farà delle vittime su posti carnefici che diverranno così invisi a gran parte dell'umanità la centrale del terrore sionista schienazita negli Stati Uniti il cuore dell'impero in declino in particolare nella Kabbalah Neocon seguace della dottrina della schienazita Leo Strauss teorico della Endless War, la guerra infinita che interpretò perfettamente il tragico destino predatorio di ogni impero Roma ci insegna Israele è indispensabile per il controllo geopolitico dell'intera area medio orientale petrolio, gas, canale di Suez contenimento e controllo delle potenze nucleari emergenti tutta la storia di Israele è storia di infamie nella quale i lupi si sono sempre travestiti da agnelli sarebbe interessante risalire all'origine dell'aggressione dei legittimi abitanti di quel territorio i filistei, filistines in greco, cioè abitanti della Palestina iniziata con Giosuè, il successore di Mosè 3200 anni fa ma questo lo abbiamo fatto in altre occasioni e non lo ripeteremo Partiamo quindi dalla fondazione del movimento sionista nel 1897 a opera del giornalista schienazita Theodore Herzl finanziato da Edmund James Rothschild per arrivare all'accordo tra un altro Rothschilder Lionel Walter col ministro degli esteri britannico Balfour nel 1917 la cosiddetta dichiarazione Balfour concedeva una minuscola porzione di quel territorio allora protettorato britannico appena sottratto all'impero ottomano proprio ai sionisti schienaziti, i falsi ebrei che da allora in poi ne hanno fatto il loro feudo l'accordo prevedeva l'insediamento sionista purché avvenisse senza interferenze di alcun genere con la popolazione locale cosa che evidentemente non è stata tutti i principali partiti, presidenti e primi ministri insieme alle élite di Israele sono stati e sono tuttora sionisti schienaziti non veri ebrei e hanno usato il terrorismo e la guerra per assoggettare parti sempre più estese della regione ignorando accordi e risoluzioni delle Nazioni Unite tra i primi immigrati, feroci lupi ashkenaziti, russi, tedeschi, polacchi responsabili e autori della rivoluzione bolshevica già dal 1920 in Palestina era in azione il gruppo paramilitare Haganah responsabile di massacri di ecidi intesi a cacciare i palestinesi dalle loro terre negli anni 40 Haganah, tuttora reparto dell'esercito israeliano si sdoppiò nell'Irgun capeggiato dal falso ebreo polacco Menachem Begin futuro primo ministro Begin, che già aveva sulla coscienza i 90 morti dell'attentato al King David Hotel e l'ecidio di almeno 100 abitanti palestinesi del villaggio di Deir Yassin continuò a compiere le sue infami anche da capo del governo tra queste l'operazione Babilonia contro l'Iraq e l'attacco del Libano per questi meriti non certo lusinghieri ebbe, come spesso accade, il premio Nobel per la pace non migliori sono stati i presidenti e i primi ministri che seguirono guerra del 48, guerra di Suez, guerra dei sei giorni, guerra del Kippur due intifada seguite da una litania di annessioni illegali compiute nel territorio della Cisgiordania in questo scenario da incubo fatto solo di violenza e di sopraffazione i veri ebrei, i sefardim, i misrahim, i falashah e gli haredim sono sempre stati insieme agli arabi cittadini di serie B il false flag dal 7 ottobre Hamas è sempre stato al libro paga di Netanyahu e solo ieri sono uscite le foto dei reporter dell'impero presenti per documentare l'aggressione è in realtà il pretesto per fare piazza pulita dei palestinesi nell'intera regione Cisgiordania compresa l'arma e il genocidio, l'alibi e l'accusa di antisemitismo di chi lo vuole impedire tutto questo in un quadro globale che vede l'impero Ashkenazita anglo-americano bacillare mentre altri imperi storici, rusto, turco, persiano, cinese oggi tutti dotati di armi nucleari si affacciano alla ribalta per accaparrarsi quei posti a tavola che si prospettano vacanti in queste terribili vicende ci fa sorridere lo sfacciato servilismo della Giorgia nazionale ben consapevole del rischio che corre l'Italia a base militare del satanico impero Ashkenazita si mostra prona alla strategia dei suoi padroni imperiali contro l'interesse del suo e quindi del nostro paese d'altronde da una donna che nel giro di poche ore ha mollato due uomini Gian Bruno e Zelensky cos'altro ci si può aspettare? del pupazzo Salvini è inutile parlare Crosetto fabbrica armi e si frega le mani mai gli affari sono andati così bene Giorgetti difende a spada tratta gli usurai globalisti mentre tutti gli altri burattini fanno la loro parte in commedia sul tartufo il vicere e i presidenti a vita a Mattarella stendiamo un velo pietoso per non incorrere nell'accusa di vilipendio grazie a tutti